Siamo qua al centro noi di Monghidoro, un luogo molto importante e fondamentale per i disabili e le famiglie dei disabili. Un posto curato dalla cooperativa Campeggio e dai suoi addetti che seguono i ragazzi con tantissima professionalità ma anche con tanto cuore. Quindi questo posto aveva bisogno di un po' di restyling grazie alla sensibilità ancora una volta dimostrata dal Vescovo Zuppi, dalla Curia attraverso i fondi FAC che è stato possibile realizzare questa opera di ristrutturazione. Un'opera che va ad aggiungersi ad altre attività e ad altri sostegni che la Curia nella persona del Vescovo ha voluto dare alla nostra comunità, quindi in aiuto di persone che avevano perso il lavoro e con grande collaborazione invece per far rinascere un'attività industriale a Monghidoro, una gnuco realizzata da Vacchi e Marchesini e ad altri due imprenditori. E quindi devo dire che il sostegno della Curia a Monghidoro non è mancato, motivo per il quale abbiamo in occasione della giornata di inaugurazione delle opere voluto consegnare all'Arcivescovo Zuppi una targa proprio a ricordo di tutta l'attività e dell'impegno profuso a favore della nostra comunità. Era urgente questo intervento perché il peso della neve che qui d'inverno abbonda aveva procurato piuttosto frequentemente d'inverno delle problematiche agli occupanti di questa struttura. E quindi il Vescovo ha ritenuto che fosse opportuno che la diocesi con i fondi della FAC che è stato stabilito che devono essere usati non per aggiustare le chiese ma sono tutti impiegati per il sociale, che qui ci fossero tutte le caratteristiche per finanziare completamente questo progetto di ristrutturazione che ha interessato sia il centro noi che i locali adiacenti, tutti incomodato d'uso da parte della parrocchia al comune che li utilizza per le varie esigenze sociali del paese.